I lavoratori italiani vogliono terminare di andare a casa con uno stipendio di fame. Nel 69 scoppia tutto, scoppiano il movimento studentesco, il movimento operaio. La spinta dei movimenti sia studentesco che operaio era una spinta al cambiamento in ogni caso. Emergevano proprio in quell'anno risposte radicali, rivoluzionarie da una parte, reazionarie dall'altra. Milano questa mattina si è fermata muta ed attonita per rendere l'estremo omaggio alle 14 vittime dell'eccidio di Piazza Fontana. La strage di Piazza Fontana è tuttora una strage senza colpevoli. 1969, un anno con il cuore in gola, di Marco Frittella. Speciale TG1, domenica 23 e 20, Rai 1.